No, Ben, per favore, non fare così, ti prego, non lo faccio più Ma con chi stai parlando? Non conosci Ben? Sa che li leggo Ma cosa sei posseduto? Devi assolutamente trovare questa No, tutta sta voglia, appena detto perdonami, non lo faccio più Prova, l'ho detto Stai calmo, ti ho già posseduto Ben, a quanto pare Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy Sono maledetta, eh Sì, ho capito, però adesso sto parlando A quanto pare, oggi ragazzi, moriremo male a causa di un'app maledetta Un certo Ben Il cavolo è Ben In realtà, ultimamente, ho sentito qualcosa riguardo a quest'app maledetta Talking Ben Comunque l'inglese Tanto, tra un infarto, un'app maledetta Tante care cose Per cui direi di non perdere altro tempo e andare a conoscere questo Ben Che sarà sicuramente simpatico e coccoloso Perfetto ragazzi Ed eccoci qua, la sto scaricando adesso Quanto è bello, Silente Talking Ben, quello che stavamo dicendo Voglio un attimo vedere se ci sono recensioni Molto positive, devo dire Cioè, neanche se comprassi una cacca finta su Amazon Avrebbe così tante recensioni negative Com'è possibile? Mi sa che non iniziamo proprio bene Allora, ho installato l'app ma non vedo nessuna telecamera Faccina che ride Poi ho provato a chiamarlo e ho fatto una serie di domande Ve ne dico tre Mi spi? E lui Yes Quindi risponde a quello che noi chiediamo Ecco, questo potrebbe essere un problema C'è un uomo dentro di te? Ha risposto Yes Ma come c'è un uomo dentro di te? Mi sta venendo l'ansia Dopo ho messo davanti la mia mano E gli ho chiesto Vedi una mano? E lui Yes Io avevo una mano davanti Poi ho visto un video Lui dice a Tom Parr Vabbè, qua l'italiano è morto Però di sicuro si è capito Che quest'app Ha qualcosa che non va Com'è possibile? Riesce a vedere Quello che c'è dall'altra parte Porca vacca Ma perché sto registrando? Assurdo Assurdo Gli ho chiesto Ben c'è un uomo al tuo interno Ma perché tutti chiedono Se c'è qualcuno dentro Ben? Ma che sto qua? E per dieci volte di fila Continuavo a fare yes Ogni volta Ma la cosa assurda È stata quando Gli ho detto Che era un pedofilo Ha staccato il telefono Ha aperto il giornale E ha detto Con una voce molto sinistra Non lo sono Io nel dubbio non registro Che cavolo però è Va bene Direi di non leggere altre recensioni Perché altrimenti Veramente non registro questo video E direi di aprire l'app Vediamo cosa succede Ho l'ansia Non è normale Quando sei nato? Ma devo mettere una data giusta? Oppure tipo Sono del 2005 Vediamo se si può mettere Ok si può mettere Purtroppo Mi ho fatto ricordare che sto invecchiando 1994 Inizia Sì va bene Accetto tutto Che mi fai venire gente sotto casa Che mi ammazza Non riesco a sentirti Ho bisogno di accedere Hai dato Ti calmi Ma che cavolo ridi? Non riesco a sentirti Ho bisogno di accedere al microfono E non c'è neanche Si o no Ok Tipo fallo Perché sennò T'ammazzo Quindi in questo momento Lui Ci sta ascoltando A quanto pare si Tra l'altro non fare versi Perché entro nel gioco E ti prendo a schiaffi Con quale giornale Me lo stai dicendo? Ah Fa il porcellone Guardare i gatti Fanno cose zozze La devi smettere Di interrompermi bene Mi stai dando fastidio Ti conosco da due secondi Mi sta sul c***o Ti aspetto Allora No shh Non lo fai a me Lo fai a tua sorella Va bene? Devi stare calmo Niente Adesso lo prendo a schiaffi Abbiamo una bottiglia Credo di vino Ma cos'è pure Ubriacone Bene Vediamo se clicco Che succede A togliere il giornale Con calma Allora intanto Con quale suono? Ma poi Come ti permette A buttare in giro La bottiglia? Cos'è? Agli schiavi Che puliscono al posto tuo Come ti permetti? Cioè l'ha lanciata via Ma cosa stai facendo? Cioè l'ha lanciata via Ma cosa stai facendo? Porca vacca Ha appena ripetuto Quello che ho detto Con una voce inquietante Bene fai paura Orca vacca Dimmi che la forchetta Al coltello Le posso usare Per ficcaglielo Negli occhi Ti prego Immagino Immagino Si metterà a mangiare Con calma Sempre Immaginavo Si però i suoni Sono proprio brutti Cosa mangi? I fagioli? E butta tutto per te Andati scarica a casa tua Ma poi Cosa fai seduto su una poltrona? Un signore Ma poi Cosa fai seduto su una poltrona? Un signore Mi stanno venendo i brividi sulla schiena Ma non è normale che tu Ben riesca a sentire quello che io sto dicendo Lo capisci? E non gliele frega Sto deficiente Allora Abbiamo quindi provato Ma basta Stai zitto Abbiamo provato la bottiglia La forchetta E il coltello Questo cos'è? No no ridere Sei imbarazzante Però Ben Un po' di educazione Già butti tutto per terra Ruti pure Ha fatto vibrare il giornale Ma che cavolo c'hai? Ma poi tu sei un orsetto? Ben Parliamo da uomo a peluche Vieni qua No vabbè lo posso toccare Che Ti prendo a schiaffi posso? Ti prendo a schiaffi posso? L'ha confermato Ma se faccio così? Lo faccio impazzire? Ma se faccio così? Io stanno così delle ore ve lo dico Lo sto prendendo a pugni È quello che volevo fare dall'inizio Grazie mille Per darmi questa opportunità Muori Guarda quanti schiaffi Guarda quanti schiaffi Non si può veramente prendere la schiaffi È la vita Che godura ragazzi Ma si può prendere pure a pugni Ma guardate la sua faccia È bellissima Ma dove a po' Maledetta Ma perché? Ma perché? Ma basta Ma basta Niente Ha preso il vizio adesso Ascolta tutto Ripete tutto E adesso cosa fai? Ripeti tutto quello che ho detto Fammi vedere Niente Ha preso il vizio adesso Ascolta tutto Ripete tutto E adesso cosa fai? Ripeti tutto quello che ho detto Fammi vedere Mi ha umiliato tantissimo Abbiamo anche un telefono Ben Ciao Ho 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 No non ride Ti sto salutando Mi senti? Yeah Quindi tu in questo momento Mi stai ascoltando? Yeah Tanto yeah Non è più yes Mi sa che tu hai inglese Se hai messo peggio di me Ho 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 Ride l'ha capito Bene vuoi raccontarci qualcosa? C'è qualcuno dentro di te? Yeah Ho voluto fare la domanda Che hanno fatto tu Porca vacca Come yes Chi c'è dentro? Non mi attaccare il telefono in faccia Che mi dà fastidio Come ti permetti? Guarda che so' pericoloso io Mi sta prendendo molto sul serio Devo dire Sei un'app maledetta? Ho 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 Non so se prenderla come Ma che cavolo dici? Oppure certo Stai per morire A posto Bene Niente deve ascoltare Che cosa origli Sei fastidioso L'hai capito? Devi stare zitto La devi smettere di essere un'app maledetta E dare fastidio alle persone Che non c'entrano nulla con te Con quali piedi me lo stai dicendo? Ma basta ascoltare Da mezz'ora che mi ascolti A posto bene Niente deve ascoltare Che cosa origli Sei fastidioso L'hai capito? Devi stare zitto La devi smettere di essere un'app maledetta E dare fastidio alle persone Che non c'entrano nulla con te Con quali piedi me lo stai dicendo? Ma basta Bellissima questa Niente deve ascoltare Sono deficiente Sei deficiente Va bene ragazzi Concludo qua che è meglio App maledetta Un pochino mi sa di sì C'è bene che ascolta ragazzi Veramente Si mette proprio così tipo Si è palese che io ti stia ascoltando Comunque fatemi sapere se anche voi avete provato Questa bellissima app Che cosa è successo di strano a voi Io la disinstallo nel dubbio Però prima di concludere Esattamente vado a salutare Domenico Colella Giulia Ghio Arianna Pastres E Lorenzo Blanc Ciao ragazzi Il vincitore di oggi Arianna Pastres Grandissima E ragazzi mi raccomando se volete essere salutati Vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video E inoltre vi ricordo che in descrizione Trovrete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook e qui in cima Seguitemi su Instagram Ma ci vediamo un mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi